Il Museo di Fotografia Contemporanea presenta una mostra di Roberto Salbitani, uno dei maestri della fotografia italiana contemporanea. Salbitani inizia a fotografare nei primi anni 70, quando gira l'Europa e l'America come giornalista di fotografie di cinema. Da quel momento la dimensione del viaggio, degli incontri anche casuali, delle esplorazioni fuori programma, diventa una costante del suo modo di porsi in rapporto con il mondo. Che questo sia rappresentato dalle città in crescita, dalle periferie devastate dal grande sviluppo economico, dalla natura che viene completamente distrutta dal processo di urbanizzazione. Infine, Salbitani andrà anche in cerca di luoghi elettivi dove la natura ritrova il suo significato. La sua fotografia è anche segnata da forti toni critici nei riguardi dei valori e dei comportamenti conformisti che guidano la società contemporanea. Va anche annotato che Salbitani da sempre intreccia al suo lavoro di fotografo l'approfondimento delle tecniche di stampa, di cui è grande maestro, e l'insegnamento. La mostra si intitola Roberto Salbitani, storia di un viaggiatore, inaugura il 10 novembre e dura fino al 4 maggio 2014. Sono nato, sono cresciuto in una periferia a Padova dove la natura veniva poco a poco rosicchiata dalla città, dalla città con i suoi riti sempre più spettacolari e anche sempre più distanzianti, verso l'umanità, verso la condivisione umana che c'era nel vecchio paese, nella vecchia cittadina. Quindi in questa periferia si è proprio creata una specie di frattura tra il mondo naturale, il mondo contadino da cui provenivo e poi la necessità di inserirmi, il dovere di inserirmi in una città che mi aspettava, che mi attendeva e quindi la fotografia si è posta proprio al centro di questa dicotomia, cioè dal mondo dei fossi, dal mondo degli animaletti e della caccia alle salamandre, attraverso il mezzo fotografico poi mi sono buttato, cominciato a esplorare questa dimensione cittadina che mi faceva un po' paura in effetti, verso cui però dovevo andare e dentro cui dovevo inserirmi. La città è stato uno spartiacque tra il mondo della natura e il mondo del mio futuro e lì credo che in questo lavoro fotografico come la città invasa per esempio ci sono i segni di questa minaccia, anche di questi allettamenti proprio della città nuova, spettacolare e pubblicitaria, ma anche la minaccia a quello che era la scomparsa di una dimensione più naturale, più diretta, più spontanea con il mondo. La fotografia è stato sempre il pretesto per confrontarmi con la realtà, è stata una specie di guida neutrale, come avere un padre che non ha emozioni, che non vuole importi il suo punto di vista sul mondo. La fotografia aveva il potere di un avvicinamento, di un accostamento al reale, alla realtà, dentro la quale avevo problemi ad inserirmi, quindi una guida che non mi faceva subire dei condizionamenti. Avevo la possibilità tramite la fotografia di confrontarmi, di esplorare, senza rendere conto a nessuno, in modo autonomo, perché la fotografia non è il cinema, è un mezzo autonomo, indipendente, e quindi se volete è anche un cortocircuito, perché poi alla fine il referente ero anche sempre io stesso. Non credo di essere veramente un buon insegnante nel senso della neutralità, di una panoramica vasta sul mondo della fotografia, sulla storia della fotografia che potrei passare degli allievi. No, credo di essere stato un compagno di strada per molti di questi giovani fotografi, anche in relazione al fatto di quello che si diceva prima, del fatto che è una compagna esistenziale, la fotografia è una compagna di strada. Credo che ho passato questo modo di sentire la fotografia come espressione diretta, come una specie di guida che ti accompagna, che però si inserisce nei gangli stessi della tua vita. Questo l'ho passato, ma credo di aver passato anche i benefici che questa situazione ti dà. Cioè la fotografia è liberatoria, è una forma, è anche una forma, una condizione di vita, ti fa sentire dentro le cose, dentro la realtà e toglie spesso le barriere, ti avvicina alle cose. Ecco, credo che questi allievi che forse da me non hanno avuto forse una panoramica completa di quello che è l'utilizzo della fotografia, tutte le possibilità di utilizzo, da me abbiano avuto in particolare la possibilità di prendere coraggio, di rivolgersi a se stessi, di mettersi in gioco con il fatto proprio principale che è quello di esprimersi, al di là dell'arte, al di là della professione, l'espressione. Questa mostra sarà per me sicuramente l'occasione per rivedere in un unico spazio, uno dopo l'altro, queste varie tematiche a cui mi sono dedicato in questi anni. Quindi aspetto io stesso di diventare spettatore delle mie immagini per focalizzare un attimino questa varietà di lavori o invece uniformità di lavori verso cui adesso mi predispongo appunto. Grazie a tutti.